Il Carnevale del 2023 si farà in primavera perché abbiamo bisogno del tempo necessario a farlo ripartire dopo gli anni di sospensione. Così al nostro telegiornale Fabio Termine. Sì, stiamo interloquendo su vari livelli, in primis con chi la festa la deve fare, che sono i carristi, che mi hanno chiaramente stimolato anche a programmare un'edizione non da calendario, anche perché ci sono tutta una serie di discussioni da affrontare, poi ci sono due anni di fermo che chiaramente vedono i carristi essere chiaramente molto più riflessivi sulle cose da fare. Quindi si sta programmando un'edizione primaverile e lo stiamo facendo chiaramente insieme alla categoria, quindi in primis i carristi e poi con gli uffici del comune e con chi dovrà garantire la sicurezza. Però stiamo programmando un'edizione che deve essere l'edizione della ripartenza, anche in questo caso, per poi dare una progettualità a questa festa che, a mio avviso, è molto importante dal punto di vista turistico. Il sindaco di Sciacca conferma dunque che la manifestazione nel 2023 si farà e che al momento sono anche in corso interlocuzioni sulle questioni della pubblica sicurezza. La tragedia del 2020 e della morte del piccolo Salvatore ovviamente rappresentano spartiacque nella storia, ma al momento non ci sono notizie diverse dalla obbligazione tradizionale della manifestazione in centro storico. Siamo certi che rimarrà il centro storico oppure no? Ma ad oggi non vedo motivi per poterla collocare in un altro posto, però è chiaro che siamo... Siamo però che dopo il caso del 2020 la pubblica sicurezza è un po' più perplessa. Questo è vero? Questo ce lo può confermare? Ma ad oggi no, nel senso che sicuramente c'è un'attenzione da parte di tutti, devo dire, per fare una festa che ci faccia divertire in primis e che porti sviluppo. Però non si è arrivati a queste determinazioni, anche perché in questa fase non si è riscontrata una manchevolezza nel centro dal punto di vista della gestione della festa. È chiaro che però sono valutazioni che sono in itinere e che devono essere affrontate singolarmente caso per caso. Però posso già dire che nell'anno nuovo, inizio anno nuovo, già partirà la macchina. Insomma, quindi si pubblicheranno i bandi di affidamento della festa, di realizzazione dei carri allegorici e poi si andranno a sostanziare tutti gli atti amministrativi. Bandi entro gennaio, possiamo immaginarlo? Sì, verosimilmente entro gennaio si potranno sviluppare i bandi. Il Carnevale di Sciacca è un fatto che riguarda la storia, la tradizione, la società, ma che muove anche l'economia cittadina. Nessun dogma può dunque impedire di parlarne. Perfino alla vigilia di Natale, a proposito della quale il primo cittadino formula i suoi auguri alla popolazione. Sicuramente con tanta gioia faccio i migliori auguri a tutti i cittadini di Sciacca. Credo che questo veramente sia il Natale della ripartenza dal punto di vista soprattutto dell'umore della gente perché sono stati Natali bui, sappiamo di tutti i motivi, adesso si sta ripartendo. Sono convinto che la città di Sciacca ha tante carte da giocarsi e la comunità di Sciacca saprà rispondere bene per gli anni a venire. Quindi io faccio veramente i migliori auguri a tutti i cittadini e ci sarà un modo chiaramente con chi ne avrà la possibilità di scambiarceli anche di presenza perché saremo chiaramente in giro per le strade.